In seguito ad una segnalazione della sezione aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, che durante una perlustrazione in volo avvistava piante di canapa, i finanzieri calabresi del comando provinciale di Reggio Calabria, dopo mirati specifici servizi di osservazione e appostamento, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, hanno sequestrato una piantagione di 70 piante accuratamente occultate tra la fitta ed alta vegetazione nell'agro del comune di Candidoni. La piantagione è risultata in ottime condizioni vegetative, ubicata su due pezzamenti di terreno incolti e prospicenti tra di loro ed accessibile, mediante l'attraversamento di un canale di scolo, le cui acque venivano utilizzate per l'irrigazione manuale delle piante. Successivamente alla scoperta come, disposto dall'autorità giudiziaria, le piante dello stupefacente sono state estirpate e distrutte.